Il campo basso travolge una lucchese ordinata e organizzata che paga a caro prezzo una follia del suo portiere. Braia ripropone Mondonico in difesa, Benassai va in tribuna a titolo precauzionale. Calabrese torna in difesa, a centrocampo c'è Baldassin con D'Angelo che comincia da mezzala per poi posizionarsi dietro le punte. In attacco di Stefano Eddinardo dirige il signor Drigo di Portogruaro di fronte a 4.400 spettatori in una giornata soleggiata. Gara dai ritmi non elevati, sbloccata dai rosso-blu al minuto 27 quando c'è un passaggio profondo di Pierno mancato clamorosamente dalla difesa della lucchese. Ne approfitta D'Angelo che può così trafiggere il portiere Palmisani. Campo basso 1, lucchese 0, primo gol stagionale per lui, settimo marcatore diverso per il Campo basso. È un episodio che sblocca la squadra di Braia, minuto 29, tiro deviato di Di Stefano che esce al lato di un non nulla. Nella lucchese fuori sabbione per infortunio, dentro Frison dal 37esimo al 39esimo il portiere della lucchese Palmisani commette un fallo inspiegabile su Baldassin in piena area di rigore dopo aver abbrancato la sfera. Tutto non sfugge all'attenzione di Drigo, rosso al difensore ospite e calcio di rigore per il rosso-blu. Nei toscani esce Nana, entra il portiere di riserva Coletta dal dischetto. Il tiro di Di Nardo vale il 2-0 per il Campo basso ed il boato del Molinari. Il rosso-blu giocheranno tutto il secondo tempo in vantaggio di due gol e di un uomo. Tutto appare dunque in discesa con queste condizioni. Al 61esimo con il montaggio di Mirko Paladino, il Campo basso chiude virtualmente la partita. La rete nasce sempre da un lancio difensivo, questa volta di Calabrese. Di Nardo, che scatta in posizione regolare, è bravissimo ad amministrare e proteggere il pallone prima di recapitarlo. Alle spalle di Coletta, doppietta per lui e quinto gol stagionale. Triplice cambio a seguire per Braia. Dal 22esimo dentro Biconzoni, forte e prezioso per Pellitteri, Di Stefano e D'Angelo. Tatticamente non cambia nulla. Molto applaudito Di Nardo al momento dell'uscita dal campo per Spalluto. Al minuto 29, stesso minuto dell'ingresso di Serra per Baldassin. Al 37esimo reazione d'orgoglio della Lucchese che va al tiro con Selvini. Forte e timbra il cartellino anche per il tredicesimo turno. Minuto 41, Mondonico svetta su calcio d'angolo. Chiama Coletta alla parata, ma aveva commesso precedentemente fallo su un avversario. finisce con il nono risultato utile consecutivo per il campo basso, capace di inannellare nel suddetto periodo ben 19 punti. La tifoseria che nel corso della gara ha dedicato anche un coro ai 27 angeli di San Giuliano di Puglia, gongola di fronte ad una squadra in salute fisica e mentale.